Domani a mezzogiorno insieme all'amico Clemme Mikla, vice sindaco di Nova Gorizia, saremo ospiti del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella presso il Quirinale a Roma. L'invito nasce dopo il ringraziamento che io ho avuto l'opportunità di inviargli nello scorso gennaio, ringraziamento per le sue splendide parole che ha destinato alla capitale europea della cultura Nova Gorizia e Gorizia. Ho avuto modo perciò, oltre che di rappresentargli i sentimenti di gratitudine della città di Gorizia, anche la richiesta, ove possibile, di una sua presenza a Gorizia e naturalmente la possibilità anche di rappresentargli in forma fisica questi sentimenti di gratitudine. Fino ad oggi non ci è stato consentito a causa della pandemia, peraltro nel frattempo, nell'incontro che ha avuto luogo sempre presso il Quirinale a Roma tra Mattarella e il suo omologo Presidente della Repubblica di Slovenia, Pacor, hanno comunicato il loro intendimento di essere presenti proprio a Gorizia nel prossimo autunno. Di questo parleremo con il Presidente e naturalmente riproporremo, ripresenteremo i sentimenti di grande, di grande gratitudine di tutto il nostro territorio, al di qua e al di là del confine, in questa grande sfida, in questa grande corsa verso la capitale europea della cultura, testimonianza perciò di un confine non più elemento di divisione ma di coesione, non soltanto in Europa ma anche nel mondo.